Almeno 31 morti e decine di dispersi. Questo il bilancio destinato ad aggravarsi del rogo che in un sobborgo di Manila, capitale delle Filippine, ha distrutto una fabbrica di infradito. Per spegnere l'incendio ci sono volute 5 ore a causare le fiamme delle scintille in fase di saldatura, che hanno fatto esplodere le sostanze chimiche usate per la produzione della plastica.